Incredibile impresa del Catanzaro che strappa con i denti a Trapani un punto prezioso e pesante che infonde tanto morale perché conquistato al termine di una rimonta impressionante. Il posticipo del provinciale finisce 3 a 3 con una girandola di emozioni infinite. Primo tempo tutto granata con il Catanzaro in bambola, sterile, molle ed impalpabile l'undici di Dionigi. Il Trapani di Calori passeggia con Reginaldo, Bastoni, Gran Gol da 30 metri e Maracchi che firmano il 3 a 0, punteggio con cui si va all'intervallo ma nella ripresa accade esattamente il contrario di ciò che si era visto nei primi 45 minuti. Gli uomini di Davide Dionigi si svegliano e di padrone di casa si suicidano. Zanini con una sassata dal limite a via la rimonta proseguita da Infantino che realizza sottomisura. E' completata da Unescu sommerso dagli abbracci dei compagni dopo aver realizzato la terza rete. E' il pareggio risultato pazzesco dopo ciò che si era visto nel primo tempo. Primo punto per Davide Dionigi, una serata che non dimenticheranno facilmente le due tifoserie. Quella granata deve ingoiare un boccone amarissimo dopo l'illusione del primo tempo. Quella calabrese invece affronta la lunga trasferta notturna con l'umore alle stelle. Chi scende e chi sale, questo è il calcio imprevedibile per definizione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.